Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi commentiamo Monza-Juventus 1-2. Ragazzi partiamo dalla fine, partiamo dalla fine dalla considerazione madre di tutto questo. Il finale con la vittoria della Juventus con rete di gatti al minuto 94, appena abbiamo subito il gol del pareggio del Monza al minuto 91, è stato veramente una goduria pazzesca. Ragazzi parto subito da questo perché veramente una delle pochissime emozioni di questo Allegri Beast che ci ricorderemo da qui praticamente ai prossimi 50 anni sarà probabilmente forse l'esultanza che abbiamo avuto tutti quanti noi al gol di Federico Gatti. Cerco un pochettino di esagerare perché voglio che passi comunque questo concetto da questo punto di vista. È chiaro che la mia è un'estremizzazione, spero di essere molto più contento sul finale di questo campionato, magari con la vittoria di qualche trofeo, però è chiaro che veramente in questo Allegri Beast probabilmente con le due reti di gatti che abbiamo avuto in stagione, entrambe comunque ben oltre il novantesimo nella fattispecie i gol contro Verona e contro appunto il Monza. Ragazzi parliamo di livelli di goduria, di esaltazione veramente pazzeschi, quindi veramente bellissimo, una goduria impressionante, una Juventus che fa veramente emozionare da questo punto di vista. Che bello vincere così. Però ragazzi non si può andare avanti così, quindi adesso entriamo un pochettino di più nell'analisi comunque della gara perché io ho molte rimostranze comunque da muovere alla Juventus. Voi lo sapete comunque io cerco sempre di staccarmi ecco dal risultato in sé perché chiaramente il risultato, i tre punti conseguiti, una Juventus prima per una notte comunque, per due notti anzi, prima in classifica in Serie A, adesso dobbiamo aspettare chiaramente il risultato del Maradona, Napoli-Inter, partita molto complicata per i Nerazzurri, partita che potrebbe anche rappresentare una trappola comunque per la squadra di Simone Inzaghi. È chiaro che se la esaminiamo puramente da un punto di vista del risultato, parliamo di un risultato comunque molto molto importante, di un ottimo risultato, tre punti portare a casa, una grande dimostrazione di carattere specialmente dopo il rigore sbagliato da Vlaovic e dopo la rete di Carboni 2005, a cui comunque io faccio un enorme applauso perché veramente questo 2005 mi ha letteralmente impressionato, un ragazzo che ha i pochi minuti comunque in Serie A, pochi minuti a disposizione in Serie A in questa stagione e cavolo ragazzi come ha giocato questo ragazzo e che bel mancino che ha questo ragazzo, quindi applausi veramente da parte mia verso Carboni, questo Valentin Carboni. Però ragazzi se la esaminiamo invece da un punto di vista della prestazione, della prestazione quindi prova comunque al di là del risultato, parliamo chiaramente di una Juventus che oltre al grande carattere, oltre alla grande voglia messa in campo comunque dai bianconeri, abbiamo comunque delle grandi perplessità. Innanzitutto la Juventus non ha approcciato bene a questo match, non abbiamo cominciato bene la gara, anzi un attimino il Monza nei primi minuti ci ha creato dei grattacapi, ci ha messo in difficoltà, questo perché comunque il Monza al King Power Stadium è una squadra comunque molto molto ben allenata, una squadra comunque tatticamente preparatissima e che comunque ribatteva colpo su colpo, comunque alle azioni, comunque al possesso parla dei bianconeri nei primi minuti. Il Monza ha avuto quasi sempre il pallione del gioco nel corso della partita, però una di Juventus che trova anche l'episodio a un certo punto, al decimo minuto più o meno cronometro alla mano, trova l'episodio che poteva far svoltare comunque la partita, una di Juventus in difficoltà un po' imballata, un po' imbrigliata, tatticamente dal Monza di palladino, Juventus che però trova l'episodio con questo lancio lungo verso Cambiaso, calcio di rigore grande quanto una casa trattata nettissima su Andrea Cambiaso che fa un ottimo inserimento in area di rigore, lui che parte esterno con McKennie comunque interno di centrocampo, fa un grande taglio in avanti, andare a riempire proprio l'area di rigore, fallo su Cambiaso nettissimo e questo è l'episodio che poteva far cambiare comunque la partita in bene e in peggio perché chiaramente Vlaovic lo deve trasformare questo rigore, terzo rigore sbagliato dal Serbo, secondo rigore consecutivo però sbagliato dal Serbo nel corso di questa stagione, parliamo di numeri impietosi da un punto di vista della ciclistica e da un punto di vista comunque della statistica, non della ciclistica, da un punto di vista della statistica, parliamo di numeri molto molto gravi, molto bassi per un attaccante comunque che ha l'onere comunque di essere il rigorista della Juventus, non si può andare avanti così, deve migliorare comunque in questo fondamentale Vlaovic perché a volte non possiamo ecco, magari a volte dipendiamo ecco da quel calcio di rigore da un punto di vista puramente del risultato, quindi magari arriveranno dei rigori molto più pesanti e quindi da trasformare assolutamente perché magari presi a minuti comunque molto più avanti nel corso del secondo tempo addirittura, quindi sicuramente è un fondamentale in cui Dusan deve assolutamente migliorare, il rigore è parato, la di Gregorio è molto molto bene ma è stato strepitoso più che altro di Gregorio sulla respinta ecco sulla secondo dell'attivo di Vlaovic, di Mancino un po' smorzato dove veramente fa un ottimo intervento e quell'episodio poteva paradossalmente far cambiare, capovolgere completamente la gara da episodio favorevole che poteva fare un click mentale ecco nella testa dei bianconeri, poteva rappresentare veramente una grande incognita, poteva rappresentare un grande punto di domanda, una Juventus che riuscirà ecco a rimettersi di nuovo in ordine per cercare appunto di andare a trovare quella rete mangiata grazie appunto all'errore dal dischetto di Vlaovic, Juventus che però non ha avuto neanche il tempo di fare un minimo di reset mentale che subito Rabiot di testa su un ottimo angolo di Nicolussi Caviglia trova appunto la rete del vantaggio, Juventus in vantaggio con la rete del capitano Adrien Rabiot proprio nella serata in cui Danilo comunque capitano dei bianconeri rientrava e rientrava comunque a partita in corso, quindi una Juventus che riesce comunque a passare in vantaggio con Dusa che chiede tra l'altro anche scusa nel momento dell'esultanza, Juventus che passa in vantaggio però da quel momento in avanti, prima del pareggio al minuto 91 di Valentin Carboni, una Juventus che ha fatto fondamentalmente solamente fase difensiva. Ricordiamo solo due occasioni ecco per i bianconeri, entrambe poi tra l'altro nel primo tempo, perché abbiamo avuto la grande occasione divorata da Gatti su un assist di Alexandro di testa, sottoporta Gatti non riesce a metterla dentro e poi un'altra occasione sempre con Rabiot che va a calciare dal limite del rato di rigore con Di Gregorio che va quasi in bacher a neutralizzare l'intervento del francese, quindi una Juventus che trova queste due occasioni. Secondo tempo molto soporifero, molto molto noioso dove appunto il Monza fa registrare dei numeri di possesso palla e passaggi riusciti, passaggi completati veramente imbarazzanti, ecco se ne andiamo a proporre appunto in confronto ecco con la Juventus, quasi un 65% di possesso palla a un certo punto del Monza contro i bianconeri, campo comunque sempre molto pesante, pioveva a dirotto, Juventus che ha fatto sfondamentalmente solo fase difensiva con qualche sporadico contropiede, mal sfruttato però dai bianconeri e quindi praticamente il concetto era preserviamo ad 1-0, non ce ne frega niente di fare il secondo se arriva bene altrimenti chi se ne frega e poi comunque cerchiamo di limitare il Monza in tutti i modi e cerchiamo di portare a casa questo risultato di corto muso. Ecco l'eventus ce la stava quasi facendo però Valentin Carboni riesce appunto a mettere questa palla molto velenosa di sinistro all'interno dell'area di rigore, non la tocca nessuno, non la tocca di Colombo né Dani Mota Calvario e Scesini rimane sorpreso, palla appunto che entra alle spalle del Polacco, 1-1 pesantissimo in minuto 91, però è proprio questo l'errore di fondo da parte della Juventus, non possiamo dipendere sempre dal portare a casa ecco l'1-0, l'1-0 di corto muso oppure vincere sempre con un gol solamente in più dell'avversario, proprio perché il momento in cui mi sono arrebbero di più è proprio perché la Juventus subito dopo aver preso il gol dell'1-1, 20 secondi dopo è già nell'area di rigore del Monza ad attaccare, a trovare appunto il vantaggio, cosa che poi è riuscita anche a fare con proprio Federico Gatti che riesce appunto a riscattare l'errore del primo tempo e a segnare un'altra rete pesantissima della sua carriera in bianco-nero. Gatti sta facendo dei gol pesantissimi, ecco l'anno scorso in Europa League, quest'anno già due veramente pesantissimi, quindi è l'uomo dei gol importanti, l'uomo dei gol decisivi Federico Gatti, però cavolo non possiamo ancora una volta dipendere da questo tipo di concetto, da questo tipo di soluzione eccommentale. Juventus che difende, difende l'1-0, non gliene frega niente di fare il secondo, non rischiamo nulla perché poi se arriva il secondo bene, altrimenti chi se ne frega non va bene così ragazzi, non va bene perché per un motivo molto semplice fondamentalmente se vogliamo arrivare quarti va anche benissimo così perché questo livello della Serie A è molto molto basso e quindi il quarto posto pur giocando così con questi limiti molto evidenti il quarto posto dovresti portarlo a casa, però se vuoi veramente concorrere per lo scudetto con l'Inter che è veramente un'ottima squadra che non si fa nessuno di questi preconcetti mentali, non si veramente blocca da questo punto di vista, se vogliamo andarci a giocare lo scudetto con loro questa primavera chiaramente non possiamo limitarci in questo modo, io lo sto dicendo ormai da tantissimi video sul canale, tanti post partita della Juventus, potevano essere facilmente dei copy and call perché fondamentalmente la Juve di quest'anno è questa e credo che non migliorerà mai, credo che non migliorerà mai nel corso di questa stagione perché come Allegri ha instaurato nella testa dei giocatori questo tipo di mentalità, difendiamo ad 1-0, se poi arriva il secondo benissimo, tanto meglio, però difendiamo ad 1-0, però cavolo ragazzi questa squadra ancora una volta dimostra che la voglia che ci mette è molto diversa rispetto alla voglia che ci metteva lo scorso anno, però cavolo ragazzi questa squadra secondo me ha un potenziale veramente incredibile perché trova l'1-1 il Monza, 20 secondi dopo dobbiamo fare gol subito, siamo già nell'area di rigolo dei Brianzoli e quasi appunto troviamo immediatamente la rete del 2-1, quindi neanche passo un minuto che la Juventus riesce comunque a costruire un'occasione, ecco Gatti poteva magari non fare gol, però l'occasione l'avevi costruita e quindi cavolo quell'occasione creamola quando siamo 1-0, creamola quando siamo 1-0 magari facendo il secondo gol in maniera seria predisposta e non fare le barricate in questa maniera perché oggi sei stato fortunato perché siamo stati fortunati, magari la prossima volta non succederà, io voglio sperare che si riesca comunque a far breccia nel cuore della mentalità ecco di Massimo Allegri spero che cambi qualcosa ma credo purtroppo ahimè che si continuerà a giocare su questa falsa riga quindi io spero che già comunque a partire dal prossimo match Juve-Napoli spero che appunto la Juventus non debba appunto fare i conti con questo tipo di mentalità perché oggi la sorte è stata dalla tua parte però non è sempre così quindi cavolo ragazzi queste gare veramente ci devono insegnare qualcosa e continuano a insegnarci sempre qualcosa quindi prendiamo il positivo però cavolo miglioriamo perché non si può sempre fare affidamento ecco ai gol al 94esimo che sono una goduria meravigliosa però non si può sempre fare affidamento su questo tipo di occasioni per quanto riguarda i singoli ragazzi mi dispiace ma brutta la gara dei due serbi sia di Kostic sia soprattutto di Dusan Vlavic che peccato perché tecnicamente sta migliorando tanto questo ragazzo nella pulizia del gioco nel fraseggio sta migliorando tanto però cavolo zero tiri in porta fondamentalmente escluso l'occasione del rigore e pesa tanto comunque l'errore dal penalty che è il suo secondo errore consecutivo poi l'altro peggiore in campo secondo me proprio Kostic che è stato evanescente nel corso del match per quanto riguarda invece i migliori in campo mi è piaciuta la prova di Nicolussi Caviglia devo essere onesto mi è piaciuto molto la prova del ragazzino bianconero che si è messo lì ha fatto il suo con ordine anche con dei lanci molto molto belli quindi attenzione a questo ragazzo che la sua seconda apparizione in maglia bianconera e poi mi è piaciuto comunque anche alexandro perché io devo criticare alexandro quando lo devo criticare però però non è stato ecco semplice contenere da per lui colpani che era l'uomo più in forma del monza giocava dalle sue parti e cavolo alexandro comunque l'ha chiuso e colpani non ha fatto nulla di significativo poi è chiaro che abbiamo anche secondo me altri migliori in campo perché comunque la Juventus ha giocato fondamentalmente abbastanza bene soprattutto a un certo punto dopo la letra del 1-0 e prima nei primi minuti comunque del secondo tempo una Juventus che poi vede in questo momento con Rabiot il suo giocatore più forte perché Rabiot è chiaramente l'NVP di questa partita però ci tenevo comunque a menzionare anche alexandro e a menzionare anche Nicolussi Caviglia che sono stati secondo me gli altri giocatori che hanno fatto qualcosa oltre ecco la media della sufficienza ragazzi questo è il mio contenuto su monza Juventus 1-2 grande goduria però cerchiamo di imparare anche di crescere dopo queste partite adesso provo di sapere la vostra con un commento qui sotto mettere i like se non potete vedere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri ragazzi vi saluto ciao a tutti da domenica versa ciao a tutti raga